Per il ventesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, Bolzano ospita la mostra collettiva di street art intitolata Oltre il Muro. La Galleria Civica di Piazza Domenicania Bolzano ospita sino al 5 febbraio la mostra collettiva di street art Oltre il Muro 1989-2009, in occasione del ventesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. L'iniziativa è stata presentata dalla coordinatore della mostra Alessandro Mantovani e dall'assessore comunale alla cultura Primo Schonsberg, un'esposizione collettiva di street art con tele ispirata al crollo del Muro di Berlino. Mettere in disponibilità uno degli spazi più belli della città e dell'amministrazione comunale, quale è e rimane la Galleria Civica, per ricordare l'anniversario dei vent'anni della caduta del Muro, ma soprattutto che cosa? La voglia di libertà di coloro che per tanti anni, esattamente dal 13 agosto del 61, l'hanno cercata guardando verso l'Occidente. In Occidente c'eravamo noi, per tanti anni non abbiamo capito, ascoltato questo grido di libertà, per fortuna l'Occidente però, la sua cultura, i suoi valori hanno vinto. E quindi oggi noi stiamo in un'Europa che finalmente è tornata a riunificarsi dopo tutti i drammi del secondo conflitto mondiale e ha soprattutto una grande possibilità, far crescere nuove generazioni in un contesto di democrazia e di sviluppo. Un parallelo percorso fotografico di alcuni graffiti originali del Muro mette in evidenza l'importanza dei valori della libertà e dei diritti umani per sensibilizzare soprattutto i giovani e le future generazioni. Ogni artista che presenta questa mostra l'ha vissuto con il proprio stile, cercando di avvicinarsi a quel momento ed esprimendolo con la propria sensibilità. Alla sua spalla c'è una delle sue opere, forse quella qui tiene di più, si intitola Bomboclatte, che cosa significa? Bomboclatte è tradotto, sarebbe un momento di vero entusiasmo, di felicità, quello che io penso che sia quella sensazione che queste persone in quei momenti abbiano provato. Tra gli appuntamenti collaterali prevista una performance di live action painting in occasione del giorno della memoria fissato al 27 gennaio. In Piazza Domenicani, Piazza Municipio, Piazza Vittoria e Piazza Mazzini altrettanti artisti si cimenteranno live sul tema della memoria.